Lo aveva annunciato il governatore d'Abruzzo. Tempi rapidi, scelte chiare, avvio dei lavori di dragaggio e ripristino quanto prima del collegamento con la SNAV a Pescara. All'indomani del tavolo tecnico della regione oggi si riuniscono alla Camera di Commercio, autorità marittime, imprenditori e tutti i protagonisti del comparto. Il comparto è stato già assegnato, è stato già individuato alla ditta che provvederà a iniziare i lavori entro il mese di febbraio e quindi per la prossima stagione estiva la darsena commerciale sarà pienamente operativa. Avviate le pratiche per i lavori, ancora resta da conoscere quali siano le intenzioni della SNAV, quale fondale sarà necessario per ospitare i mezzi di collegamento e quali saranno le condizioni per ottenere l'impegno della compagnia partenopea. Quello che a noi interessa è quello che ci ha appena detto il comandante, cioè la fruibilità del porto con il pescaggio che necessita al mezzo che la SNAV credo ci comunicherà tra una mezz'oretta. Per cui dovremmo capire bene che mezzo arriverà, di quali fondali ha necessità e via dicendo. SNAV non ha chiesto una somma, siamo stati noi come sistema camerale che per dare una mano a SNAV che ricordiamoci tre anni fa dovete lasciare il nostro porto, per responsabilità non certo di SNAV, anzi SNAV subì dei gravissimi danni dall'insabbiamento del porto. Devo dire che c'è stata grande sensibilità da parte di SNAV nel voler tornare a Pescara. Grazie.